Saranno 194 i paesi collegati in tutto il mondo, migliaia le presenze previste tra atleti, organizzatori, giornalisti, truppe televisive e tifosi. Con questi numeri la centunesima edizione del Giro d'Italia, il 10 maggio prossimo, farà tappa a Caltanissetta, dove è prevista la partenza alla volta dell'Etna. Per definire i dettagli dell'evento, ieri a Palazzo del Carmine si è tenuta la riunione tecnica tra gli organizzatori del Giro e i rappresentanti del Comune. Gli aspetti organizzativi sono stati discussi a seguito di diversi sopralluoghi effettuati durante la mattinata in città, allo scopo di definire il percorso e il luogo della partenza. Presenti al tavolo i tecnici dell'organizzazione del Giro, la responsabile relazione enti locali di RCS Sport, Giussi Birelli, il sindaco nisseno Giovanni Rubolo, l'assessore comunale allo sport Carlo Campione è quello allo sviluppo economico Giovanni Guarino, il dirigente dell'ufficio tecnico Giuseppe Tomasella e il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Il Giro d'Italia, ha sottolineato il primo cittadino, è una grande occasione di promozione delle immagini di Caltanissetta, oltre che un evento sportivo unico per il centro Sicilia. Per questo stiamo lavorando affinché la partenza della tappa avvenga dal centro storico di Caltanissetta. L'ipotesi è stata sposata dagli organizzatori del Giro e sarà adesso approfondita nelle sedi opportune per tutte le verifiche inerenti alla sicurezza e all'ordine pubblico. Previsto anche il consueto allestimento del villaggio sportivo dove gli appassionati potranno entrare in contatto con i ciclisti.